Ed ora con Antonio Coronato ricostruiamo le vicende giudiziarie che in passato hanno coinvolto l'ITREC di Rotondella. Vediamo. Le inchieste sull'ITREC non sono una novità. Magistratura e Centro Enea non hanno viaggiato sempre su linee parallele. L'autorità giudiziaria si occupa più volte per motivi diversi dell'impianto di Rotondella, l'ha costruito negli anni 70 per il trattamento e il riprocessamento di elementi di combustibile nucleare del ciclo uranio-torio. Già nel 1983 la Procura della Repubblica di Matera avvia accertamenti e contesta alcune irregolarità, ma il procedimento, sfociato in un dibattimento, si conclude senza condanne. Risale a dieci anni più tardi l'inchiesta che fa più rumore, condotta dall'allora procuratore capo di Matera Nicola Maria Pace, scomparso nel 2012 dopo una lunga attività, proseguita in tutta Italia, nel contrasto ai reati ambientali. Partita con l'intento di verificare come l'Enea gestisce l'ITREC e se ci sono pericoli per la popolazione, l'indagine si allarga al punto da presupporre l'accusa di produzione clandestina di materiale radioattivo ceduto a paesi del terzo mondo e viene definita nucleare connection. L'inchiesta, passata nel 1999 alla direzione distrettuale antimafia di Potenza, esplode nel 2007, quando i PM ipotizzano un traffico di plutonio dalla Basilicata con base proprio a l'ITREC, con avvisi di garanzia per ex dirigenti Enea e presunti esponenti dell'Andrangheta. A sostenere le accuse, le dichiarazioni del pentito Francesco Fonti racchiuse in un memoriale in cui parla di fusti contenenti materiale e scori radioattive sepolti in Val Basento. Altri contenitori sarebbero stati trasportati e seppelliti in Africa, nell'Iraq di Saddam Hussein o addirittura affondati nel Tirreno e nello Ionio. Dei fusti interrati, cercati soprattutto nella zona di Pisticci, nessuna traccia. Nel 2009, Nucleare Connection viene archiviata, ma l'eco di quelle inchieste rimane viva, tanto da ispirare anche un'opera teatrale, Storie di Scorie di Ulderico Pesce. Oggi, l'attore Lucano ricorda come fin dal 2006, nel suo spettacolo, denunciava il presunto sversamento di liquidi inquinanti in mare da una condotta dell'ITREC e sottolinea l'amara sovrapposizione tra finzione scenica e realtà.